Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con Assassin's Creed, Liberation HD, notizie dal nord, va a nord e cerca l'uomo della compagnia. Sebbene la ricostruzione della nostra rete abbia richiesto molti anni di lavoro, l'aiuto dei nostri amici americani potrebbe portarci ancora più lontano di prima. Uno dei nostri informatori dice che c'è un lealista a New York che potrebbe, se incoraggiato, smascherare l'uomo della compagnia. Ti prego, vai a New York a cercare nostro fratello Connor. Gli ho chiesto aiuto per trovare l'ufficiale Davidson del reggimento etiope di Lord Dunmore. Ok, si parte. Notizie sui ricordi dell'Animus. Evelyn ha pagato a caro prezzo l'uccisione di Vasquez, che non era affatto l'uomo della compagnia. Costretta ad allontanarsi dal padre nelle sue ultime ore di vita, ora mette in dubbio le decisioni prese. La sua lealtà verso la confraternita vacilla. Ok, ha cambiato anche abbigliamento. Oh, New York. Gli anni passati è l'azienda prospera, ma l'uomo della compagnia continua a sfuggirmi. Finalmente l'imbeccata di un informatore mi spinge a partire per lungo viaggio. Perfetto, siamo a New York, con una temperatura abbastanza invernale, incontra Connor. Andiamo da Connor. Ha cambiato anche di abito la nostra cara amica. Già trovato? Eccolo! Sono Aveline de Grand Prix, il fratello da New Orleans. Sì, Achille mi aveva già informato. Cerco un lealista. L'ufficiale Davidson. Del reggimento etiope di Lord Dunmore. Il reggimento è passato di qui. Guarda che disastro. Le tracce puntano di qua. Li seguiremo in silenzio. Bello! Fra gli alberi. Attenta! Insegui la sentinella, mentre mi libero di loro. Che spettacolo! Una missione con Connor! Fantastico! Vieni qua, sentinella! Vieni da me! Vieni da me! Arrivo! Arrivo, 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 arrivo. Eccomi, eccomi. Preso. Lasciami! Rispondi se tieni alla vita. Dov'è Davidson? Chi? Forza, parla! È nel forte! È stato facile. Sarà per questo che vi definite lealisti? È più facile essere leali al sicuro in un forte che in mezzo alla neve sotto minaccia. Vai a casa, corri e non voglio mai più vederti o la pagherai molto cara. Sì, signore. Scappa, va! Guardate che bella mantellina di pelo! Oh! Tutta sta scalata ci dobbiamo fare! Sto cavolo! Scala la cascata ghiacciata. Scala la cascata in meno di un minuto. Ok. Oh, 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 di qua. Vai. Piano, piano, piano. Mamma mia come si arrampica la nostra amica! Che spettacolo! Perfetto. Vai qua. Poi. Di qua, di qua. Qui, qui. Perfetto. Che bello, sono troppo fomentato! Una missione con Connor! Vai, vai. Perfetto. Vai, sopra. Una bella arrampicata, eh! Sto cacchio! Ma Connor? Nel senso non si arrampica o... Da per scontato che si arrampica? Di qua, di qua, di qua. Oh, oh! Benissimo! Si arretta con un solo braccio. Devastantissima. Ok. Ci siamo, eh! Vai! Perfetto. Che c'è? Ah, ok. Dobbiamo passare di qua. E dobbiamo raggiungere il fondo. forte per cercare questo Davidson. Raggiungi il ponte. Eccolo, Connor! Grande Connor! Andiamo! Grandissimo! Vai, vai. Mamma mia, che bella la sensazione di buttarsi dentro la neve. Vai! Andiamo, andiamo. Le cose cominciano a farsi belle adrenaliniche rispetto alle missioni precedenti. Vieni qua. Oh, oh, oh! Che cacchio fate, oh! Buono, buono! Perfetto! Oh, oh, oh! Non si prende alle spalle una signora. Oh, ancora che rompi? E dai! Dai! Perfetto! Vieni qua. Oh! Uccisione concatenata non disponibile. A posto. Aspetta che prendo il tesoriere. Perfetto. Ok. Continuiamo. 73 metri. Oh, c'è qualcuno? Anzi, ce ne sono ben due. Mamma mia, ma col macete facciamo danni veri. Dai, Connor, dammi una mano. Oh, oh! Ancora che resisti? A posto. Adesso muori. Guarda che bello il sangue sulla neve. Voilà! Perfetto. Connor? Oh, Connor, su! Ti devo pensare io? Non ce la va a difendere da solo? A posto. Continuiamo. Andiamo, andiamo! Su, su, su! Voglio entrare in questo forte. 30 metri, ecco il ponte. Oh, cavolo! Qua cascamo di sotto, è finita? È finita. Ce la fai da sola? Spingi la trave per far attraversare Connor. Spingi la trave. Allora. Qua. Perfetto. Poi, di qua. Vai! Ok. Poi. Da qua. Dove si può passare? Ce la fa a saltare in avanti? Mica lo so, eh. No? Con la tua fruzza puoi afferrare i vari oggetti e appenderti ad essi per attraversare lunghe distanze. Come si faceva, però? Se mi ridici i pulsanti per farlo, qua non si può passare, vero? Qua è tutto vuoto. Qua è chiuso. Andiamo un po'. Qua niente. Dobbiamo riuscire a raggiungere quel punto lì. Ma vorrei sapere come faccio... Vai! Preso! Mamma mia! Che numero! Che numero! Tieni premuto RX e corri verso il bordo per oscillare e saltare. Allora. Tieni premuto R1 e X. R1 e X. Dai! No! 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 Dai! Ho fatto un numero sull'ultimo pezzo. Non so neanche come ho fatto... Ma che c'ha sopra il muschio? Torna al collo. No, dovrei fare tutto sto pezzo. Già tanto che ero riuscito a saltarci. Taggia la miseria d'esta frusta. Ogni volta mi dà certe erogne. Allora. Andiamo qui. Le facciamo tutto come prima. Poi salta qua. Perfetto. Poi salta qua. Perfetto. E adesso... Qua! No! 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 Squartata! Decomposta! Fratturata! Devastata! Scricchiolata! Apparente gli è successo di tutto. No! Infatti ancora dico come cacchio ho fatto prima a saltare lì. Non è che si può... Aspettate che ho visto qualche cosa di interessante, eh. Per fare il salto. Eh... Prima ci sei riuscito. Ancora non lo so come ho fatto. Adesso ci riproveremo comunque. Connor, stai tranquillo che ce la faremo! Qua ho visto... C'era un buco. Ma non ti ci fa passare però col cacchio. Cacchio. Vai! Vai! L'ha preso! Perfetto. Vai, 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 vai. Bene così. Allora, R1, X... Ero a oscillare. Però mi serve... Eccolo. Fammi vedere che non ci vedo. L, X ed R1. L, X, R1. Vai! Perfetto. Voilà. Adesso andiamo qui e buttiamo la trave per Connor. Vai. Perfetto. È andata. Due lì. Due lì. Me li sparo io. Me li sparo io. Me li sparo io. Arrivo, 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 arrivo. Vai. Uno. E due. Mamma mia che numero. Perfetto. Ok. Andiamo Connor. C'hai paura che te perdi? Che gli devo stare vicino? Mazza. 43.000 soldini ci abbiamo. Connor, su. Un po' più veloce. Andiamo. Tiè, sento pure il rumore dei lupi in cuffia. Che c'è? Tutti i salberi ci dobbiamo sparare? Cerca un modo di entrare. Io giro intorno e li distraggo. Va bene Connor. Quello che vuoi è legge. Ok. Andiamo. Perfetto. No! Su, su. Perché sei scesa? Devi andare su quel tronchetto lì. Perfetto. Andiamo. Vai, 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 vai. Qui. Di qua. Vai. Andiamo. Andiamo. Mamma mia che scioltezza ragazzi. Che scioltezza. Vai. Vai. Mamma mia che numero Evelyn. Di qua. Di qua. Vai. Qua devi saltare. Ce la fai? No? Ok. Salta qua. Perfetto. L1. Ma dove? Lì? No. Aspetta. Prima qua. LX ed R1. Vai. Eccoci qua. Arrivati eh. Arriva, arriva, arriva. 2, 2, 2, 2, 2. Salta, salta. Vai, 1. No. Oh, 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 oh. Mamma mia che numero. Perfetto. Vai. 1. E vai col 2. Tiè. Voilà. Trova Davidson. Andiamo. Aspettate. Qua c'è un'altra guardia. Un'altra guardia. Che morirà. A posto. Vai. Vai. Numero. Numero in 1. Andiamo sul secondo. Vai. Mamma mia quanti ne stanno arrivando. Su. Sbrigati. Sbrigati Evelyn. Fallo secco questo. Vai. Mamma mia che salto. Perfetto. Andiamo. Sono in 3. Sono in 3 ragazzi. Sono in 3. Mamma mia. Mamma mia. Pericoli veri. Preso. No. No. Mamma mia. Un altro. Manca l'ultimo. Forza. Forza. Oh. Oh. E oh. E dai. Su. A posto. Ok. Dobbiamo trovare Davidson. Però prima di tutto. Ci vorrebbe. Che è questo punto verde? 47 metri. Andiamo un po' a vedere. Che cos'è? Da qua ci posso passare? Su. Sali. Sali. Che c'è qui sopra? Che è questo punto verde? Ah. Dovamo andare qui? Io mi sono andato avanti a uccidere a destra e a manca. Ok. Entra nella torre di guardia. Allora ragazzi facciamo una cosa dato che qua la cosa la vedo molto interessante fermiamoci qui così nel prossimo video andiamo a viverci bene il forte e l'incontro con questo Davidson. Ci vediamo nel prossimo video sempre qui sempre sul mio canale sempre con Assassin's Creed Liberation HD.